Il classico video di fine serata Aprila La classica tepura che c'è sempre Ha detto cosa che si deve cantare una canzone? Sto facendo il video Ma c'è lei che si deve cantare una canzone? Allora faccio i primi rifiuti poi E lamentate C'è Paoletto, eccolo qua Il classico, il solito video, Anna Rita Anna Maria Ma perché mi chiamo sempre Anna Rita? C'è anche Hillary stasera C'è il mini video Angelo Luisa Angela Sempre i capelli riprendiamo Ecco la crema, un po' di crema e un po' di cioccolata Il mitico mini Viaggio E Viaggio questa sera ha preso la maglietta e l'alletta Molto bene Che stai conosciamo? Un po' di gente che non conosciamo Li riprendiamo mentre basta Chi sa Paoletto? Chi sa Paoletto? Da lei Ma che è tu? C'è mia sorella Eleonora Paoletto Paoletto Emanuele che sculto Baciatevi, baciatevi Ma non baciate? Vabbè non sculto Mi fa lasciare un posto Ma sì no E' un sacco di gente che non conosciamo La riprendiamo uguale Fai un saluto, mini Viaggio Cristian Grazie a tutti Grazie a tutti